Ecco la strada per arrivare al parcheggio di Anche Cinema Quello in fondo è Redentore, siamo su Via Chisanzio Giriamo su Via Manzoni La facciamo tutta Via Manzoni fino alla fine Via Manzoni finisce su Corso Italia Eccola qua Occhio a guardare se arriva qualcuno Dopodiché immediatamente su Corso Italia e sulla destra Eccolo qua il parcheggio Si entra qui sotto, parcheggio E sulla destra, eccolo ancora segnalato Eccolo qua, questo è il parcheggio Mentre poi a piedi dopo aver parcheggiato si può raggiungere il teatro da questa parte Grazie a tutti